Buongiorno da Giulia Mancinelli in apertura alla cronaca. Un turista senigallese di 74 anni, Giorgio Taccheri, è deceduto ieri mattina mentre si trovava in acqua sulla spiaggia di Torremozza in Salento. L'uomo appassionato di immersioni stava effettuando una perlustrazione a pochi metri dalla riva quando sarebbe stato colto da un malore. I familiari e gli amici che erano con lui hanno subito lanciato l'allarme ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si sono svolti ieri a Bologna i funerali di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a martellate dall'ex fidanzato e la senigallese Giovanni Padovani di 27 anni. L'omicida si trova in carcere come stabilito dal giudice del Tribunale di Bologna che ha convalidato l'arresto. Ieri intanto si è tenuta nel capoluogo emiliano una fiaccolata in memoria di Alessandra e di tutte le donne vittime di femminicidio. Una bancarella abusiva è stata sequestrata alla fiera di Sant'Agostino che si è chiusa ieri sera. La bancarella che sponeva capi di abbigliamento e scarpe in piazza Garibaldi non risultava tra quelle registrate. La guardia di finanza e la polizia locale hanno delimitato con del nastro bianco e rosso la postazione e tutta la merce è stata sequestrata. L'ambulante è stato multato per 5.000 euro. Il Covid sono 979 i nuovi contagi registrati ieri nelle Marche con un tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti stabile a 334 positivi. I ricoveri ospedalieri sono 90 di cui 3 in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono verificati decessi. La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo per criticità dovuta a temporali valida per tutta la giornata di oggi. L'arrivo di una nuova perturbazione secondo le previsioni dovrebbe determinare nelle zone in cui ricade il comune di Senigallia condizioni di tempo instabile.